Dunque, per come è stata impostata ora sembra convincente, però io mi permetto di mettere in discussione l'analisi di base. Cioè, il fatto, dalla impostazione che ha dato lei, sembra che ci sia una sorta di democrazia realizzata in Europa e poi un pericolo di rinascenza dei fascismi. Ora, io dissento rispetto a questa lettura e ne darei una di tipo diversificato. Abbiamo, per un verso, una forma di tirannia dei mercati e della banca centrale, quindi tutto il contrario di una democrazia. E poi una richiesta dal basso, io parlerei a questo punto, di sovranismo populista, cioè del popolo come massa precarizzata che soffre la globalizzazione, anzi la glebalizzazione come io la chiamo, e che cerca tramite il recupero delle sovranità nazionali di riguadagnare spazio come protagonista nella storia, con una propria autodeterminazione, riconquista di diritti sociali perduti, anche riconquista di democrazia. Quindi tutto l'opposto. Con anche, però non lo nascondo, delle tensioni verso un nazionalismo regressivo, di cui bisogna essere consapevoli. Però non condivido questa analisi per cui c'è da un lato una democrazia europeista realizzata e dall'altra semplicemente il nazionalismo regressivo barra fascista. Secondo me ci sono anche tutta una serie di elementi che ci possono portare verso un recupero della sovranità nazionale come base della democrazia. Le giubbe gialle in Francia, ad esempio, che altro sono? Sono un esempio di fascismo e di antisemitismo, come ha detto qualcuno, ma niente affatto. È un'area del popolo, possiamo dirlo, ceto medio e classe lavoratrice di fatto, che con il sovranismo populista che cosa cerca? Cerca più Stato e meno Unione Europea, più diritti sociali e meno globalizzazione del commercio e così via. Questa è la tendenza che io vedo oggi in Europa. Questa contrapposizione vedo. Per cui non sono due le forze in campo, come emergeva dalla sua analisi. Sono tre in realtà. C'è la possibilità anche di un recupero della sovranità nazionale in base, in funzione democratica e emancipativa. Non dimentichiamo questo aspetto. Cioè oggi il solo modo per, io dico, per risovranizzare l'economia, cioè per rimettere l'economia sotto il controllo della politica, che invece il realizzato sogno liberista è quello di sottrarre l'economia alla politica, per rimettere l'economia sotto il controllo della politica, non c'è altra soluzione che rimettere al centro lo Stato sovrano nazionale come potenza, lasciatemi citare lo Hegel almeno una volta, che disciplina la bestia selvatica del mercato. Il mercato altrimenti, non disciplinato dalla forza dello Stato sovrano nazionale, garantisce soltanto il trionfo del più forte. Il libero mercato, i dest, il libero cannibalismo. Lo dico ancora con una frase ancora più semplice. Lo Stato sovrano nazionale può essere democratico, può essere democratico, non è detto che lo sia, può esserlo. L'economia senza politica non sarà mai democratica. Questo è il punto fondamentale su cui bisogna ragionare. Per cui ritornare agli Stati sovrani nazionali non è la soluzione finale, non è la vittoria della democrazia. Può però tornare a essere il luogo in cui combattere per i diritti sociali e per la democrazia. Finché si resta in un piano sovranazionale vincerà sempre il mercato non democratico. Questo è il mio punto sul caso Orban, in estrema sintesi. Io non sono un fautore di Orban in quanto tale. Mi limito a riconoscere che c'è stata un'aggressione verso Orban per il fatto che ha fatto...